Bene, questa volta ho deciso di fare stra sul serio il 28 marzo alle ore 18 parleremo di un argomento stra importante, un argomento di cui non ho mai parlato in un certo modo ma di cui ho sempre parlato sul canale YouTube ragazzi e cioè l'analisi ciclica. Questa volta il 28 di marzo alle ore 18 parliamo dei segreti dell'analisi ciclica con un webinar gratuito come si usa, a cosa serve, mi piace sempre ragazzi guardare quelli che sono i titolori giganti che danno gli esperti di marketing, i segreti dell'analisi ciclica, è bello ma poi è anche vero tra le altre cose però mi entusiasmava questa cosa quindi ho detto no lasciamolo così. Una strapicata gratuito completamente ore 18 solo per gli iscritti al webinar, link in descrizione, parliamo di analisi ciclica, come si usa l'analisi ciclica, a cosa può servirvi l'analisi ciclica, quali sono le basi di analisi ciclica da applicare al trading delle criptovalute e in generale un mindset completo. Ci sarà poi la classica sorpresona alla fine del video ragazzi con le super offerte che andremo ovviamente ad avere per quanto riguarda il corso Basic 2.0 anche perché vi dico già da subito che ho appena finito di registrare il modulo ciclico dedicato al Basic 2.0 che finalmente entra al 100% come parte integrante anche del corso Basic. è un modulo molto freestyle ragazzi, molto leggero per tutti quelli che vogliono capire che cos'è dall'inizio, dalle basi ragazzi senza andare diciamo nel lessico estremamente complesso ma il 28 parliamo di questa cosa, io vi lancio questa dritta, iscrivetevi ragazzi perché è una cosa strafiga, strafantastica. Detto questo, bene ciao a tutti ben tornati in questo nuovo video, lanciamo la moneta perché ci sono una serie di cose da parlare oggi molto velocemente, è uscito di nuovo il Super B di Bitcoin e quindi è uscito di nuovo il, tecnicamente la cosa positiva diciamo il trend positivo. Bitcoin può breccare i massimi di 29.000 dollari in pochi giorni, lo andiamo a vedere in questo video ma anche in questo video dobbiamo andare a vedere questo grafico che è il grafico della Dominancy Bitcoin che continua a imperversare ragazzi, si sta inserendo in quella rettangolino di cui vi avevo parlato, molto complesso ma se è brecca a questo livello aspettatevi veramente i numeri da parte di Bitcoin. C'è un'altra cosa che dobbiamo andare a vedere e ce la indica questo grafico qui, cioè la questione bancaria Europa con alla fine del video un grafico totalmente nuovo sul canale, cioè non è nuovo in realtà, 4 anni fa quando ho aperto il canale ne parlavo spesso, comunque Fuzzimib Italia ragazzi, cosa sta succedendo al grafico del Fuzzimib Italia e quindi all'Italia in generale? Deutsche Bank, che fine farà Deutsche Bank? Unicredit, seguiamo la stessa strada, ora mi mandano il video, non vi anticipo di niente, lo vediamo alla fine del video. Però ragazzi io volevo anche farvi vedere una cosetta, allora che la situazione insomma sulle banche della crisi finanziaria ci fosse è ormai una cosa assodata. La scorsa settimana, cioè questa settimana scusate, nello scorso mercoledì la Fed alza i tassi ancora di 0,25% e in pratica riconferma che la banca continuerà con la sua politica di alzo dei tassi per combattere l'inflazione a prescindere dalla crisi finanziaria, molti però sono convinti che questa presa di posizione della Fed sia un po' eccessiva, che la crisi finanziaria delle banche e quella che potremmo anche vedere tra un po' di mesi magari la famosa recessione mai vista finora, potrebbe essere un po' più cupo, un po' più difficile da gestire per la stessa Fed di quello che la banca si aspetta, però c'è da dire che la banca ha detto io garantisco tutti i depositi, ma poi la domanda è come fai, garantisci tutti i depositi, quindi tutte le perdite, allora quanto vale questo dollaro? Allora quanto si svaluta il valore reale di una moneta se tu mi garantisci tutti i depositi? Allora io che ho il dollaro non penso a questo punto di dire ma cerco un bene rifugio, non dico ma forse questo bitcoin non suona poi così tanto strano, eh? Va bene, va bene, senza fare complottismi vari ragazzi, oggi vediamo anche comunque il grafico di bitcoin, subito, immediatamente, un riepilogo di quello che è successo in questa settimana per quanto riguarda i dati, il più importante è il rialzo dei tassi della Fed, le scorte di petrolio che sono, diciamo, aumentate, quindi peggiorano un pochettino il mood della recessione, non hanno grande importanza perché oscillano veramente tantissimo, per quanto riguarda i sussidi, disoccupazione sono continuamente in riduzione, quindi in pratica la disoccupazione americana non si muove l'economia americana straforte che è quello il dato che ci interessa, insomma l'unico dato rilevante è questo qui, la decisione della Fed, è la conferenza del PONC, la Fed continuerà ad alzare i tassi, però, 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 la questione dei default relativi alle banche è arrivata anche in Europa, forse in Europa un po' peggio degli Stati Uniti, perché, ragazzi, perché già le banche europee non è che fossero così tanto appetibili in termini di profittabilità, diciamo così, e di gestione dei rischi, alcune banche le abbiamo viste già messe in grave crisi, come la Credit Suisse che è stata poi salvata, eccetera, ma altre ovviamente ancora non hanno detto la loro, questa c'è, Deutsche Bank, ma Deutsche Bank, ragazzi, è un capitolo aperto, veramente da tanto tempo, ora, guardandola così, sembra che quasi quasi non sia successo niente, perché siamo abituati ai grafici delle cripto, dal marzo 2020, in effetti, dalla questione Covid, la banca comunque si è mantenuta in un nulla di fatto, una lateralità, ma se guardiamo questo grafico a, diciamo, inversione più lunga, dalla crisi Lehman e quindi dalla questione 2008, questo è stato il grafico di questa banca, che da sempre è stracolma di debita, un sacco di problemi da alcuni punti di vista nella gestione dei rischi, eccetera, c'è anche da dire che però l'attuale valorizzazione di Deutsche Bank è veramente molto bassa rispetto ad alcuni parametri come ricavi, eccetera, perciò c'è sempre un po' una palla piena, una palla vuota, chi è che sa veramente le cose, chi è che sa, insomma, se questa banca è a rischio, qualche giorno fa i CDS, che sono i Credits Default Squap, che sono degli indicatori, in pratica, di rischio dei default della banca, sono schizzati alle stelle, perché schizzati alle stelle? Perché è un'assicurazione sulla copertura del fallimento dell'istituto di credito, quindi chi li compra si copre dal fallimento dell'istituto di credito, perciò costano di più, significa che il rischio è schizzato alle stelle. Poi però, vedete, si è immediatamente dissolto, ma c'è da dire una cosa, questa struttura qui, questa fase che vedete, scusate, questa non è di Deutsche Bank e Credit Suisse, ragazzi, si è immediatamente di sotto, proprio nel momento in cui UBS l'ha comprata, e quindi è un po' quello che è il gioco delle parti, quindi da una parte, ok, salgono questi CDS, però poi dall'altro arriva l'intervento delle banche centrali, della Fed, come è stato, per la SIG con Valley Bank, e quella è fallita comunque, ma i depositi garantiti, però nel caso di Credit Suisse è arrivato l'intervento di UBS che l'ha comprata non a sconto, di più di a sconto, ragazzi, la compara da una pancarella dell'usato, quindi se la rimettono a posto sostanzialmente si fanno un botto di soldi loro, perché l'hanno comprata veramente a prezzi stracciati, come sempre in queste fasi, chi ha tanta liquidità fa veramente degli acquisti straordinari in questi momenti, però ovviamente i CDS sono rientrati immediatamente. Quelli che invece mi preve farvi vedere oggi sono quelli di, Deutsche Bank, che è la nera, e poi, ragazzi, quella su, che è Unicredit, e poi c'è anche Societe Generale, che è Francia, quindi qui abbiamo Germania, Italia, Francia, Impulse Position, tutti nello stesso movimento, sia Unicredit, sia DB, quindi Deutsche Bank, e un po' meno Societe Generale. Allora, questa cosa perché, ragazzi, perché un po' la crisi del settore finanziario in effetti esiste, e, insomma, di questo se ne dovrebbe parlare un po' di più. Quindi io credo che la BCE farà qualche intervento. Andiamo a vedere anche il grafico di Unicredit, giusto per completare la questione, un credit un po' meglio, forse, di Deutsche Bank, dal questo minimo che era stato fatto sempre nella questione Covid, si era un po' ripresa. Anche lei, però, vedete, dall'evento Lehman, quindi dalla crisi su Prime, il grafico è sempre questo, un grafico delle migliori chic coin, potremmo dire, della storia, anche lei, la scherza a parte, ragazzi, mi balla di video oggi. Va bene, allora, detto questo, il gioco sulle banche, sulla crisi delle banche, è dipendente strettamente da quello che la BCE, in questo caso, farà, e se lasceranno morire o meno una banca. Cioè, quanti stati seguiranno quello che fa la, che ha fatto la Svizzera con Credit Suisse, e quanti seguiranno la Fed, e quanti invece diranno, no, caro mio, il gioco è fatto, io non ti copro i debiti. Questo è un po' il gioco delle parti, il primo caso che avverrà di una cosa del genere, scoppierà un patatrack colossale. Ora, è possibile che nell'ambiente, insomma, occidentale, quindi Europa e magari Stati Uniti, questa cosa non avvenga. Però, io un po' starei fortemente attento, ragazzi, e vi faccio vedere anche quello che è il grafico del Fuzzimib Italia, perché il grafico del Fuzzimib Italia ha un super ciclo che deve andare a chiudere a dicembre, gennaio 2024, dicembre 2023. La parliamo al fine del video perché è una chicca, due minuti. Va bene, prima però di andare a vedere Bitcoin, adesso vi faccio vedere questa cosa perché non potevo non mostrarla, ragazzi, perché è un evento storico, l'evento in cui Peter Schiff dice che i massimialisti Bitcoin non si sbagliano. Cioè, che succede? Peter Schiff dice una cosa del genere. No, ragazzi, una cosa che dovete vedere assolutamente, perché io ho riso per 13 minuti, quando lui dice che questa... Eccolo, ragazzi, la home si era aggiornata. Allora, Bitcoin buyers, maybe from Bitcoin, ma poi perché dovrebbero essere... cadere in errore a Bitcoin, bassono e hanno ragione circa la Fed e l'inflazione. e molti investitori stanno sottovalutati alla questione del rischio della crisi finanziaria e di quello che potrebbe comportare tutto il debito emesso, diciamo, in termini di debito pubblico e degli emittenti sovrani che ovviamente con questi tassi alti non potrà essere ripagato. Allora, di questo ancora non ne parla nessuno, scoppierà tra poco, ragazzi, questo caso, del fatto che i tassi di interesse così alti non permettono agli stati di mantenere i loro debiti e quindi lui dice insomma, hanno ragione sulla Fed ma si sbagliano su Bitcoin? Ma perché voi? E quindi dovrebbero diventare holders ma perché non dell'oro? Ok, allora, diciamo, siccome non ha alternative in questo caso, quindi tutto quello che stavo dicendo di amarti la cripto è vero, però non Bitcoin, no, quello fa schifo e ci devi comprare l'oro, vabbè. Allora, Peter Schiff, deciditi, stai passando nel lato oscuro, secondo me, tra un po' lo potremmo vacillare e andrà a prendersi una pizza con Michael Sayles. Vabbè, detto questo, non lo so, però è troppo simpatica questa cosa. Siamo a Bitcoin, analisi, sfondo non sfondo a questi 29 che possibilità ha, dominanza, poi la chicca sul Fuzzimip Italia. Allora, ragazzi, questa è la questione legata alla dominanza, e questa candelina, una candelina molto particolare e perché, ragazzi, in sostanza è una candela su time frame settimanale, quindi molto significativa, piccolina, schiacciata, passa, questa chiude domenica, però non adesso, potrebbe essere una candela conclusiva di un trend. Vi faccio vedere la tipologia della candela, come va a crearsi, ed è una candela definita evening star, ce n'è anche un'altra qui, molto simile, un corpo molto piccolo, delle shadow non molto pronunciate, e si presenta alla fine di un trend al rialzo, è una candela molto particolare, questa è la struttura della evening star. Allora, questa candela, che si presenta alla fine di questo trend al rialzo della dominanza, è contemporaneamente al livello di resistenza più importante della dominanza, perché, se io vi metto senza le shadow, capite bene che qui, ragazzi, vedete, siamo al livello di massimo di close settimanale, che era circa 48, senza shadow, della dominanza di bitcoin, e ci siamo vicini, ragazzi, siamo proprio lì, perché questo è, che ragazzi, scusate, il computer iniziava a dare i numeri, sicuramente questo, tutto quello che ho citato in questo video, no, no, stanno bloccando internet, no, vabbè, non è così, però, vabbè, allora, non andava internet, vi giuro ragazzi, va bene, ok, aspettate che guardo un attimo fuori se c'è qualcuno con l'elicottero, vabbè, allora, detto questo, ragazzi, 48 è la fine di questa struttura, allora, qui i giochi si fanno molto duri per bitcoin, perché superare questa fase di pricing, e quindi superare il 49-50%, significa uscire da questo limbo di barra di congestione e fare due cose, perché non è solo uscire da una barra di congestione che dura da maggio 2021, quindi sono due anni di barra di congestione, ma significa anche identificare quella barra di congestione come una barra di riaccumulazione di bitcoin durata due anni, quindi estremamente importante, quindi dal punto di vista di continuazione del trend e di ottimismo, pessimismo sui mercati, una fuoriuscita da questa zona diventa un strong buy su bitcoin fortissimo di medio-lungo periodo che è anche confermato dai dati anche nei confronti di altre cripto, che poi magari questo sia un trend ragazzi che si vada magari a esaurire testando questa zona, secondo me da giugno in poi avrà difficoltà perché Troom potrebbe riprendere delle quotazioni di un certo livello, quindi insomma poi ne parliamo di questa cosa, però lo sfondamento di una barra di congestione di questa dominanza corrisponde in sostanza ragazzi proprio a una enorme presa di posizione di bitcoin e di forza di bitcoin e costringe poi a identificare tutti gli analisi e a identificare questa barra di congestione come una barra di riaccumulazione di bitcoin nei confronti delle cripto, una cosa che ovviamente sarebbe estremamente rialzista proprio per bitcoin stesso, ma andiamo a vedere la questione invece legata al movimento di bitcoin di questa fase e perché in questo momento non riesce a sfondare la nuova resistenza che vi avevo indicato 0,23 di Fibonacci del ritracciamento del bear market quindi è una recupero è un livello chiave questo qui perché al di sopra come vi dicevo c'è una fratteria di nulla quindi bitcoin potrebbe arrivare immediatamente a 32, 35 e oscillare poi qui una serie di mesi ora secondo me il superamento di questo livello potrebbe essere fatto da bitcoin ad aprile perché ci sono una serie di situazioni che mi portano a dire questo ragazzi intanto siamo ancora nel primo semestre del ciclo annuale del ciclo annuale di bitcoin e poi c'è anche nasdaq che non ha breccato il suo livello chiave che è questo qui quindi anche se nasdaq andrà a spingere al di sopra dei 13.000 punti che è questa zona e poi indipendentemente dalla forza di bitcoin sarà influenzato bitcoin stessa e quindi spingerà probabilmente anche lui quindi una app di nasdaq al di sopra di questo livello sancisce poi una nuova forza che lo porterà magari al di sotto di questo massimo però vicino a questo massimo tra le altre cose questo è il massimo di giugno dovesse nasdaq nasdaq breccare addirittura questo livello è molto lontano ancora ce ne vuole acqua sotto i ponti però dovesse perché questo livello indica al 100% un ciclo annuale iniziato qui quindi un cambio radicale anche per l'anno 2023 proprio per la e per nasdaq stesso quindi bitcoin potrebbe in effetti avere poi la spinta verso aprile magari di fare una cosa del genere in questa settimana in questo weekend in realtà ci sarebbe anche la possibilità ve lo dico un po' sotto tono per chi di voi vuole un po' fare qualche scommessina no? ma i weekend non sono mai belli per tradare perché la volatilità non è molto alta non ci sono istituzionali però a volte magari si va prettamente a favore proprio di quelli che sono i trend retail e quindi in questo caso di alzista perché a livello ciclico potrebbe un po' spiazzare molte posizioni perché ci sono dei cicli che si stanno uniformando e nel weekend se bitcoin prova a breccare i 29 non ha gli istituzionali che gli rimano contro insomma potrebbe in effetti fare diciamo uno spuntino al di sopra dei 29 testare un po' e poi rientrare insomma io un po' ve la butto lì secondo me questa resistenza è giusto che sta facendo quello che sta facendo ma potrebbe essere breccata prima della chiusura di questo ciclo mensile che dovrebbe essere in close alla prima decade di aprile quindi magari provare a fare una cosa del genere per poi chiudere io mi aspetto un guizzo no? un guizzo ragazzi che poi qui c'era aveva già provato a farlo proprio nella giornata di oggi portandosi vabbè questo è Big Stamp 29 e 3 però se andiamo a vedere vediamo Binance che è meglio ok ragazzi vi faccio vedere uno dei miei grafici che è quello che condivido con l'Academy praticamente ogni due giorni pubblichiamo a giorno a mezzo con questo grafico allora perché voglio farvi vedere i prezzi Bitfinex dove non c'è quello swipe vedete quindi il massimo è sempre 28 e 3 perché a volte Bitstamp dà dei segnali che poi insomma non sono poi quelli lì quindi ragazzi purtroppo i mercati cripto hanno questo problema quindi non è stato fatto un nuovo massimo nella giornata di oggi questa cosa qui comunque questa zona potrebbe essere appunto ritestata con un tentativo di andare appunto intorno ai 30.000 prima della chiusura di questo mensile e al momento secondo me è rimandato tutto ad aprile mancano pochi giorni settimana prossima qualche giorno di marzo poi vedremo però secondo me può farlo ragazzi l'unica cosa attenzione a questo weekend perché i mercati ogni tanto un po' sono bastardini vabbè allora nel frattempo vi ricordo ovviamente il super webinar del marzo 28 marzo alle ore 18 ci vediamo insieme speriamo con un nuovo massimo di bitcoin in quella fase per parlare proprio di questo modo di analizzare i cicli ragazzi questo che mi vedete fare ogni giorno sul canale e poi passiamo all'ultimo grafico di oggi la chicca sul Puzzimib Italia perché perché una close ciclica di un ciclo di 4 anni sull'indice più importante dell'Italia cioè quello che racchiudo è i 40 titoli più capitalizzati dell'Italia tra cui tutte le banche Eni, Enel e Coppagnia Bella ma non è solo questo perché ragazzi è un ciclo che è un maxiciclo cioè quello che va da marzo 2009 fino a questa data di teorica conclusione che è gennaio-dicembre 2024 cioè ragazzi un ciclo di circa allora vi faccio vedere sì 2009 se consideriamo ragazzi comunque 2024 però è gennaio quindi dovremmo considerare teoricamente un po' più 2023 comunque è un ciclo di 14 barra 15 anni è un ciclo enorme ragazzi è il Puzzimib Italia che si era copertato benino in questa fase devo dire la verità avendo breccato anche questo livello insomma non aveva fatto male i compiti a casa però è nella seconda fase di questa struttura ciclica e sta già dando i primi segnali di debolezza e potrebbe in effetti innescarsi una spirale di cross ciclica così se facesse una gamba ribassista che dovrebbe avvenire nella seconda parte dell'anno circa a chiudere questo maxi ciclo di 14 15 anni o il ciclo di 4 anni e da dove prende questa forza di bassista perché l'indice italiano è strettamente correlato all'andamento di titoli bancari e dei titoli dell'energia Eni Enel che pesano il 20 25% dell'indice e quindi sono molto pesanti insieme a tutto il comparto bancario una close di questo indice a livello ciclico 4 anni barra 14 15 anni totali sarebbe dipendente esclusivamente secondo me dall'ambito bancario non è detto che sarà un disastro eh ragazzi potrebbe essere più o meno una close del genere però anche a livello ciclico in questo momento abbiamo un'idea che il secondo semestre dell'anno 2023 forse forse per la questione financial crisis che sta arrivando che è mezza arrivata non si capisce non sarà facile da gestire mi raccomando su tante questioni occhi aperti e soprattutto non esagerate con investimenti iper speculativi in questi momenti perché il settore cripto siamo abituati nel settore cripto a vedere volatilità ma non lo siamo abituati a vedere nei settori standard fermo restando che io credo che le cose le mettano a posto però magari poi ci fanno meno 20 o meno 25 no e lo compriamo dopo va bene detto questo vi auguro un buon weekend a tutti e vi ripetisco il webinar martedì ma noi ci vediamo prima lunedì per aprire la settimana e vedere dove siamo dopo il weekend ciao ragazzi ciao